Dopo le associazioni ed i sindacati, anche le forze politiche chiedono all'Ansl Salerno di riattivare il servizio di radioterapia oncologica a Nocera Inferiore. I gruppi provinciale e consigliare al Comune Nocerino di Fratelli d'Italia hanno inviato una nota al direttore generale dell'azienda sanitaria Antonio Squillante, con la quale chiedono l'immediato ripristino del servizio. La riattivazione, si legge nella nota, risponde esclusivamente ai bisogni degli ammalati. È necessario offrire ai pazienti oncologici residenti nel nostro territorio e alle loro famiglie un servizio di vitale importanza. Gli esponenti di Fratelli d'Italia hanno chiesto un incontro con la dirigenza dell'Ansl Salerno al fine di trovare rimedio a tale problema nel breve periodo. Ma richieste simili arrivano anche dal consigliere regionale del Partito Democratico, Violante, La radioterapia, scriva Valiante, costituisce un trattamento fondamentale nella lotta contro i tumori. Lo certifica la letteratura scientifica, che spiega come non sia possibile rinviare per un paziente affilto da cancro un trattamento di terapia radiante. La vita dei cittadini segna il passo dunque dinanzi ai conti dell'Ansl e della regione è quanto avviene in uno dei territori della provincia di Salerno, l'agro nocerino sarnese, dove il tasso di mortalità per neoplasie risulta essere tra i più elevati. Per effetto della singolare disposizione dell'Ansl di Salerno, centri di eccellenza che da anni prestano a nocera inferiore in regime di autorizzazione il servizio di radioterapia per la cura del cancro in via esclusiva, perché il servizio non è erogato da strutture pubbliche, dovranno dismettere tale attività, che negli ultimi tempi ha riguardato mediamente 500 pazienti l'anno. Aumenteranno i tempi delle liste di attesa e purtroppo i decessi. Verosimilmente sarà l'inizio di nuovi viaggi della speranza per quei pazienti che possono permetterselo. Il diritto alla salute non può essere subordinato a provvedimenti amministrativi e circolari burocratiche. Grazie a tutti.